salve ragazzi buongiorno a tutti io ho inquadrato la scultura a caso la niche di Samotracia è alata senza la testa si trova al lucro è giusto che non mi mettano il copyright anche perché giù c'è una scritta mia l'avevo condivisa con whatsapp avevo scritto nei donne abbiamo non abbiamo la testa perché ce l'abbiamo dentro l'anima e le ali per volare qualcosa del genere ragazzi io sto facendo questo video nonostante sia ancora un po sotto anestesia ho avuto una settimana veramente dura da una parte vi ringrazio tutti coloro che mi seguono i nuovi iscritti quelli di prima quelli che verranno spero ho sempre detto che a me all'inizio è nato per caso il canale però ho sempre detto poi che mi piacerebbe insomma che crescesse che crescesse nel modo giusto crescere intendo dire che io ho un canale per divulgare tutto quello che sono le mie percezioni le percezioni dei ragazzi sono soggettive non oggettive di quello che è stata la mia vita didattica professionale anche per aiutare solo uno di voi e mi riferisco adesso mi rivolgo alle famiglie a coloro che ci hanno i figli a coloro che hanno come dire che hanno i figli adolescenti per adolescenti insomma quello che voglio dire questo ho chiamato questo video la coltre della coltre del dolore perché perché effettivamente ragazzi quello che ho che vi posso dire questo è la tecnologia sta andando troppo veloce troppo veloce troppo veloce ragazzi di conseguenza ci siamo dimenticati dei valori umani ma non valori intesi come valori delle cose belle noi lasciamo i nostri ragazzi soli no noi magari non so e quanti adolescenti e oggi stanno male i pre adolescenti soprattutto perché non hanno un punto di riferimento o perché i genitori li fanno non li fanno mancare niente ma noi dobbiamo far mancare tutto perché questi ragazzi non devono andare a scuola sotto sotto gocce sotto ansiolirici e sotto antidepressivi poi la notte si si ritrovano svegli a non dormire a vegliare a sentire l'eco del loro stesso ego cioè dei loro stessi pensieri e si sentono soli fino a che non arriva l'alba e dove filtrano le prime luci dalla finestra ragazzi il dolore la colta del dolore dobbiamo far vedere i nostri dolori emozionarci dobbiamo andare insegnare ai nostri ragazzi ad andare come dire al funerale perché se muore il nonno per parlare del nonno della vita del nonno per parlare delle belle cose che ha fatto il nonno in campagna bisogna ragazzi capire che le emozioni vanno espresse in qualche modo youtube ragazzi è freddo whatsapp è freddo noi mandiamo le motion queste cose qua ma in realtà di emozioni non si parla perché nascondiamo sempre questo dolore che poi ci viene a trovare di notte perché di giorno bene o male lo confondiamo con i suoni delle macchine che passano con quello che noi stessi facciamo eccetera eccetera ecco perché dico volgo fare questo video perché quello che la tecnologia sta andando avanti velocemente se tutto sta come dice va tutto molto veloce quello che viene a mancare il auto il lato umano cioè non si può conversare su youtube si conversa a cena si conversa in famiglia si conversa tra amici quando si va nel ristorante magari dove non c'è la musica a palla per interagire con gli altri quindi su youtube ragazzi non si possono cercare gli amici o non si possono portare i nostri ragazzi a dire tipo i genitori a mio figlio non gli faccio mancare niente ma no ma bisogna che gli manchi tutto perché deve venire il desiderio la curiosità la creatività l'ingegno di cercare qualcosa che lo fa stare bene nella vita e non soltanto di dirgli che va tutto bene perché nella vita può andare anche tutto male ma questa è la vita cioè la vita è quello che spiega il dolore quello che spiega la morte e la morte la paura della morte è quello che spiega la vita il coraggio di vivere o di non vivere ma quello che intendo dire che il dolore non va messo da parte assolutamente si parla del dolore nel dolore si nasce col dolore si cresce col dolore si diventa grandi quando eravamo piccoli e quando io ne so i nostri genitori cadevano con la bicicletta e non si faceva tutto questo caos che c'è oggi subito al pronto soccorso a fare questo quell'altro ma si cade si sbuccia il ginocchio si gioca a nascondino eccetera c'è non prendiamo i cellulari a 13 anni non facciamo queste foto non trucchiamoci non facciamo questi office dove facciamo vedere ai ragazzi che tutto è bello che la vita è bella ragazzi la vita è bella ma la vita è anche dolore quindi leviamo la coltre su questo da questo dolore e mostriamola a noi stessi perché sennò poi la notte non dormiamo e ci sentiamo soli è così che si sentono i nostri adolescenti o adolescenti perché ormai sono stati robotizzati c'è da questa società che continua a propinarci modelli modelli di 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 situazioni di di macchine belle di donne e con le come si dice con le labbra e di gomma cose di questo tipo ma no ragazzi andiamo andiamo all'interno di noi stessi non cerchiamo il con il contenitore cerchiamo quello che c'è dentro quello che contiene cerchiamo quello che ci dice la nostra la nostra anima quello intendo dire cioè dobbiamo cercare di di trovare l'interazione con gli altri di confrontarci con gli altri ecco perché questo è un video ringraziamento sicuramente per i nuovi iscritti e voglio anche dire che io non ho mai detto che non voglio crescere io all'inizio questo canale è nato per sbaglio per errore per una forma di daltonismo che voi sapete già l'ho spiegato che cos'è dalton il verde che si che si vede il rosso che si vede verde però poi alla fine questo canale io ho cercato un'opportunità cioè l'ho fatto diventare un'opportunità di crescita per me stessa ma anche per dire quello che penso non posso dire soltanto le cose belle della vita vanno anche dette quelle meno belle cioè se qualcosa non va va detta se una persona ha un problema un paziente va dal medico il medico gli dice che c'è qualcosa che non va ma quello è bravo è un bravo medico perché dice le cose che non vanno cioè io adesso parlo della parte del malato dove effettivamente manca questo questa empatia manca questa cosa vuol dire cerchiamo sempre di abbassare il dolore cerchiamo sempre di non provarlo cerchiamo sempre di dare ai nostri figli quello che che magari c'è stato dato c'è di nasconderlo con i farmaci invece no dobbiamo riuscire ad aumentare la soglia del dolore e non a farla diminuire ci deve venire la voglia di saltare la voglia di cadere bene si cade eravamo piccoli cadevamo poi ci rialzavamo e questo quello che quello che dico quindi i video che io faccio gli istanti di vita veri quelli di cucina che farò ancora sono legati alla psicologia perché se noi mangiamo bene il nostro sistema endocrino e tutto quello che tutto il nostro organismo andrà a riversare in positivo le energie poi ripeto la tecnologia sta andando molto veloce e quindi su youtube su whatsapp manca il lato umano manca l'interazione manca il confronto siamo diventati delle vere e proprie macchine oppure diciamo di essere amici ma come si fa ad essere amici su youtube o su whatsapp se non ci si conosce come si può è una cosa assurda ragazzi non esiste non esiste non si può conoscere una persona e fare un video andando a buttare a terra un altro non si può costruire la felicità nostra sulla disperazione degli altri assolutamente ecco perché ripeto io ho fatto questo video voluto farlo nonostante sto ancora un po in un bambita per non usare l'altro termine ma intendo dire sulla nicchia di samotracia che dobbiamo dovremmo cercare di migliorarci ogni giorno di portare alla luce i nodi del dolore di conoscere il nostro dolore quello infantile quello pre adolescenziale adolescenziale per amarlo per capirlo per andare oltre per non diventare adulti nevrodici per non far diventare i nostri figli adulti nevrodici che poi vanno su youtube e conoscono delle persone dico ma ma quello amico mio quello amico mio sai mamma quello è bravissimo è una persona gentile anche io sono gentile nel mio canale la gentilezza la cortesia l'umiltà va tutto bene ma va anche detto quello che non va bene l'importante è capire che la tecnologia la digitalizzazione sta andando troppo veloce le emozioni invece hanno bisogno di tempo per essere vissute noi abbiamo bisogno di tempo per crescere siamo piccoli quando siamo piccoli siamo piccoli ma poi man mano quando maturiamo attraverso quello che facciamo i nostri studi quello che studiamo il lavoro che facciamo non dobbiamo non far mancare niente o non dobbiamo farci non mancare niente dobbiamo farci mancare qualcosa per trovare qualcosa quella curiosità che ci fa sentire divi imparare a cadere fa sentire il dolore senza prendere subito l'antidolorifico o l'ansiolitico basta ragazzi cerchiamo di non sentirci tutti amici su youtube ma di ascoltare le persone che ci danno la possibilità di capire che comunque esiste un mondo che è bello e brutto come dico sempre io dove c'è la bellezza ma c'è anche una parte meno bella e quella va accettata i nostri figli devono imparare ad accettarla a conviverla a convivere con queste emozioni con quelle meno belle anche quando si innamorano e poi magari vengono lasciati come è successo anche a noi chi di noi nella vita non ha provato dolore emotivo oltre che fisico ma tutti credo tutti però va anche detto che se la tecnologia va veloce nei nostri video manca qualcosa manca l'umanità manca la cortesia la gentilezza manca il saper perdonare che manca ma non solo che non è che io posso perdonare io non sono certo il nostro signore gesù però voglio dire manca quella parte umana quella parte che ci fa sentire l'altro come sta quando io chiamo un'amica gli dico ciao come stai cerco di ascoltarla se sta male non dico che pizza che palla assolutamente o non mi invento non dico sto al mare vado di fretta ma per carità impariamo ad ascoltare i nostri figli impariamo ad ascoltarci ad ascoltarci di giorno e di notte soprattutto di giorno ritagliamoci gli spazi che ci permettono non di stare come degli imbambiti di fronte a maria de filippio non so io a chi tanto per dire una o a barbara turso per carità ma ma cerchiamo di andare a scoprire a mettere le mani nella terra a piantare un seme a vedere che cosa nasce mettiamoci l'acqua e poi tante cose la la cucina è tecnica del fantasia poi c'è la creatività c'è l'arte poi c'è chiama come me la psicologia e chi cerca di far capire agli altri che non bisogna non far mancare niente bisogna far mancare tutto perché la gente possa provare curiosità su youtube non sei amici ragazzi non possiamo fare un video e dire io parlo di quella persona perché la conosco bene perché gentile perché tutti siamo gentili nel mio canale ci sono solo persone gentili ma ogni tanto c'è anche qualcuno che dà delle botte forti ma vanno bene anche quelle vanno bene anche quelle comunque ragazzi io vi ringrazio sono senza voce scusate è stata una settimana di ospedalizzazione di anestesia di tutto di piccolo intervento è andato tutto bene per carità non sono vittima di niente non ho mai io seguo me stessa non seguo con gli altri questo è un video ringraziamento mi dispiace di non essere venuta nei vostri canali in questo periodo perdonatemi ma comunque ripeto vi ringrazio non ho mai ho sempre detto che il mio canale voglio che cresca ma non che cresca perché lo voglio monetizzare anzi ho sempre detto che mi interessa divulgare dei contenuti per uno stile di vita sano che abbia a che fare con la cucina con l'alimentazione con lo sport con la gestione delle emozioni impariamo a sentire il dolore ad amare il dolore ragazzi grazie a tutti questi video che io farò saranno in collaborazione con stefania nel canale della pirottina ecco posso dire che stefania è una ragazza molto preparata in psicologia è una ragazza molto creativa una ragazza che ecco in questo caso come vedete non sto usando il termine amicizia sto dicendo sì conosco una parte di lei che è in vibrazione positiva con la parte di me quindi farò i video insieme a stefania tra l'altro abbiamo anche in comune l'amore per l'arte per la pittura eccetera 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 poi già che volevo dire anche un'altra cosa io ho sempre detto faccio sempre dei video di sponsorizzazione ho sempre detto che secondo me tutti bisogna che crescano su youtube no perlomeno questo è il mio pensiero il mio sentito quello che manca a molte persone è il buon senso e non va bene così come manca il lato umano così come manca il tempo di capire le emozioni che stiamo provando perché la digitalizzazione sta andando troppo veloce ragazzi ci sono molti problemi non solo in italia ma la percezione non deve essere sempre negativa la percezione è anche positiva noi noi vediamo che comunque molte cose stanno cambiando e non solo il negativo perché tutti ci stiamo ribellando a tante cose e questo è bello e questo è bello lottare lottare sentirsi vivi e cercare di non dare tutto ai nostri figli ma di fargli mancare qualcosa al che loro si attivino per cercare di vivere al meglio seguendo le loro inclinazioni le loro attitudini ragazzi detto questo ci vediamo nel prossimo video continueremo a parlare del dolore in termini diversi ciao ciao a tutti